Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense. Apriremo tra poco con alcune notizie di cronaca, alcune riguardanti in particolare la Movida ferrarese, ma ci occuperemo anche dell'impatto della pandemia sulle libere professioni, in particolare legate a un seminario tenutosi in Emilia Romagna. Ci occuperemo anche di CNA che preme la creatività delle giovani imprese ferraresi e poi spazio a Ferrara Monumenti Aperti, sesta edizione per una bella iniziativa culturale che si trarà questo weekend il 22 e il 23 di ottobre. Ci occuperemo anche di altre iniziative tra cui quella di Rete Pace di Ferrara che domani pomeriggio sarà in piazza municipale. Ma come dicevo, apriamo subito con la cronaca diverse notizie di cronaca, molte delle quali legate alla Movida ferrarese, in particolare nella serata di ieri il personale della Polizia di Stato durante l'attività ha controllato 15 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli attuati nei confronti dei locali maggiormente frequentati dalla Movida, gli agenti della squadra amministrativa della Questura hanno notato all'interno di un esercizio di vicinato la presenza di tre giovani ragazzi che uscendo dal locale celavano sotto il cappotto alcune bottiglie di vino. Fermate, le stesse hanno riferito e al termine degli accertamenti al gestore dell'esercizio è stata contestata la violazione amministrativa per la vendita di bevande in continitore rigido in violazione di specifica ordinanza sindacale. Altra notizia, sempre con gli agenti della Polizia di Stato, riguarda l'intervento a seguito di una segnalazione di un uomo che con un bicchiere in mano disturbava e molestava diversi passanti presenti davanti ad alcuni esercizi commerciali del centro cittadino urlando e inveendo verso le persone. Gli agenti giunti sul posto hanno individuato l'uomo in evidente stato di alterazione e l'uomo durante il controllo ha iniziato sin da subito a mostrarsi aggressivo nei confronti degli operatori di polizia continuando a tenere questo atteggiamento per tutto il corso delle verifiche e sebbene gli agenti tentassero di riportarlo alla calma si è mostrato ancora più violento con atteggiamento provocatorio per poi tentare la fuga. L'incorso è bloccato nonostante i ripetuti tentativi di liberarsi opponendosi in ogni modo gli agenti lo hanno immobilizzato per poi condurlo presso gli uffici della questura dove al termine delle formalità di rito è stato deferito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta e molesta. Rimaniamo sulla cronaca ma cambiamo radicalmente argomento c'è stato un grave incidente questa mattina alle sette e mezza sulla provinciale 14 nei pressi di ruina in via del collegio nella comune di Riva del Po. Per uno scontro frontale i due conducenti di una city car e di un SUV sono rimasti feriti gravemente entrambi appunto all'ospedale di Cona a Ferrara. Alla guida della city car una donna di 55 anni ricoverata con un codice 3 mentre è ferito in maniera meno grave il giovane di 24 anni alla guida del SUV. Sul posto i carabinieri di Copparo ai quali saranno affidate le indagini per scoprire quelle che sono le cause che hanno provocato il frontale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle due vetture. Cambiamo argomento parliamo di covid adesso quasi dimezzate rispetto a 24 ore fa i nuovi contagi in provincia di Ferrara dove non si registrano nuovi decessi. Anche in regione si registra un calo di nuovi positivi ma con altre sette vittime purtroppo tutti anziani per complicanze da covid-19. Vediamo il servizio. Si sono quasi dimezzati i nuovi positivi nel Ferrarese dove in 24 ore si registrano 296 nuovi contagi a fronte di 515 tamponi refertati. A dirlo è l'ultimo bollettino pandemico nel quale si contano anche 285 nuovi guariti e nessun decesso. Stabile la pressione ospedaliera con quattro nuovi ricoveri al Sant'Anna di Cona dove ora sono 40 i posti letto occupati di cui 3 in terapia intensiva. Le persone ricoverate all'ospedale del Delta di Lago Santo sono 23 mentre ci sono 14 posti letto occupati a Santissima Annunziata di 100 per covid positivo. In Emilia Romagna sono 3573 nuovi casi di positività al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 15.579 tamponi refertati. Restano stabili sia ricoveri in terapia intensiva sia il numero dei pazienti ricoverati negli altri reparti covid positivo. In regione si registrano 3534 nuovi guariti ma anche 7 nuovi decessi, persone che avevano un'età compresa tra gli 85 e i 97 anni. Intanto ci occupiamo dell'impatto della pandemia sulle libere professioni, una lettura di genere sulle specificità dell'Emilia Romagna. E' questo il titolo del seminario che si è tenuto nei giorni scorsi all'Aula Magna della regione in diale Aldo Moro 30 ma dal servizio vediamo che cosa è emerso. Siamo la prima regione in Italia ad aver approvato all'unanimità in consiglio regionale nel 2014 una legge che va attraverso delle politiche mirate a sostenere le donne e il lavoro delle donne. Oggi parliamo di questo, di come dopo quasi tre anni di pandemia si sono acuite le differenze, le diseguaglianze, come le professioni e il lavoro delle donne risulti quello maggiormente penalizzato. E allora serve intervenire con politiche trasversali che guardano al welfare, ai servizi, agli asili perché le donne non devono mai trovarsi nella condizione di dover scegliere tra vita privata e vita lavorativa e poi serve anche molta formazione e tutela per il lavoro delle donne anche appunto per le libere professioni. Emerge un dato molto importante del gender pay gap anche fra i professionisti. È un gender pay gap che nella fascia fino a 30 anni si aggira circa al 10%, sopra i 30 anni dai 30 ai 50 anche al 40% e quindi la maternità e l'accudimento dei genitori colpisce le donne professioniste perché nel momento in cui curano i propri familiari, i propri figli non riescono a essere presenti in studio, quindi c'è la perdita dei clienti e quindi la perdita di fatturato. La pandemia ha messo in risalto ancora queste divergenze tra uomo e donna, soprattutto nella mancanza di servizi che si è venuto a creare durante la pandemia. Pensiamo agli asili, alle scuole chiuse, è stata la donna a dover rinunciare maggiormente al proprio lavoro, a limitarlo addirittura a rinunciarci completamente proprio per assistere i familiari, assistere i bambini, pensiamo alle persone che non sono in grado e che necessitavano di cure e di conseguenza il maggior sacrificio è stato proprio affrontato dalle donne. Il problema invece si pone quando analizziamo il tema della disparità a livello reddituale perché lì emerge un mondo che in qualche modo consegna dopo la pandemia un quadro non molto diverso da quello che esisteva in precedenza, quindi le donne guadagnano di meno, nelle stesse classi di età abbiamo professioniste che arrivano a percepire redditi ridotti della metà rispetto a quella dei colleghi e questo è un divario che in realtà si accentua con il progredire degli anni. E adesso torniamo nel nostro territorio, premio cambiamenti edizione 2022 di CNA, ieri le premiazioni per la creatività e l'innovazione delle giovani aziende ferraresi alla finale locale che ora vanno alla finale regionale. Conosciamo dunque una delle aziende premiate nata dall'idea di due giovani ragazze ferraresi. Vediamo. Io sono Alice Sebastianis, sono co-founder di Kool, Mystery Box e Kool è una start-up innovativa che vuole andare a risolvere il problema delle rimanenze di magazzino nei negozi di abbigliamento. Siamo partite a marzo di quest'anno sul mercato, quindi abbiamo già affiliato più di 25 negozi tra Ferrara, Bologna e Modena e appunto risolviamo questo problema dando la possibilità ai negozi di creare delle box di abbigliamento formate da due e cinque capi o accessori o scarpe, però tutti provenienti da rimanenze di magazzino. In questo modo il negozio si libera delle rimanenze guadagnandoci qualcosa e avviciniamo l'utente invece a quei brand di Medioluxury Luxury al quale non si potrebbe avvicinare perché appunto a queste box c'è una forte scontistica applicata che è un meno 60%. È nata dall'idea e dall'unione delle competenze mie di Miriana. Io vengo dal settore bancario, ho lavorato per dieci anni in banca e porto le mie competenze diciamo economiche e finanziarie. Miriana invece ha lavorato per cinque anni nel settore proprio del fashion retail come store manager. Ecco, un riconoscimento come quello di oggi che avete ricevuto, immagino faccia piacere e fa anche guardare il futuro con ottimismo. Sì, infatti siamo felicissime e ringraziamo davvero per aver creduto nella nostra start-up. Siamo felici di essere così approdate nel network ferrarese che in realtà ancora non avevamo conosciuto per cui siamo contenti di aver vinto questa prima finale e di essere tra le tre vincitrici. Ce la mettiamo tutta e ovviamente speriamo tantissimo che possa andare bene anche la finale che si terrà a Bologna e poi anche quella a livello nazionale. Quindi siamo molto felici e continuiamo così come stiamo facendo. Torno al premio Cambiamenti, è sempre un grande momento, immagino per voi è anche molto atteso. Sì, è un momento che tutti gli anni, questa è la sesta edizione, e devo dire che per le giovani imprese è veramente una bella finestra perché ti dà la possibilità di intanto farti conoscere, non solo a livello nazionale, perché non è detto che uno riesca a superare questa fase di selezione, però all'interno del proprio territorio effettivamente tante aziende ti vengono a conoscere. C'è un grande interesse anche della stampa e quindi è veramente un'occasione per uscire un po' dal proprio seminato. In particolare poi quest'anno, forse più di altri anni, vale la pena partecipare perché anche qualora non si dovesse vincere, si entrerà comunque nel circuito Cambiamenti OFF che è stato lanciato proprio quest'anno e che va proprio da parte di CNA a stimolare un interesse di ricontatto, cioè chi non ha vinto viene comunque messo davanti a degli eventi dove ci saranno poi investitori importanti che potranno decidere di darti una seconda chance, quindi questo è un ottimo anno per partecipare. E ricordiamo che questo sarà un tema al centro della prossima puntata di Artigianato News. Adesso invece ci occupiamo del Comune di Voghiera che è il primo ente dell'Emilia Romagna che avendo scelto la formula della gestione associata delle assunzioni e utilizzerà le nuove opportunità varate dal Governo Draghi. Obiettivo? Una procedura più snella in linea con le esigenze concrete dei Comuni con il personale ai minimi storici. Vediamo. La figura professionale al momento richiesta dal Comune di Voghiera è quella di un istruttore tecnico geometra categoria C a tempo indeterminato e per cercarla l'amministrazione comunale ha deciso di avvalersi della formula della gestione associata delle assunzioni introdotta dal Governo Draghi che ha l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure concorsuali dei Comuni. Il Comune di Voghiera è così il primo ente dell'Emilia Romagna ad avvalersi di questa formula e ha iniziato la fase degli interpelli per integrare in breve termine il proprio organico. A differenza dei concorsoni nazionali, questa modalità consente ai Comuni di poter coinvolgere direttamente la platea dei candidati ritenuti idoni di ciascun territorio spiegano all'ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta l'adesione di oltre 3.900 enti. Una volta costituiti gli elenchi, infatti attraverso l'interpello da parte del singolo ente la selezione concorsuale avverrà soltanto tra le persone già inserite nell'elenco che si dichiarino disponibili e che sono realmente interessati a lavorare presso quell'ente senza il rischio di richieste di mobilità continue per avvicinarsi a casa. Negli enti locali il personale ai minimi storici e per lo più di età avanzata continuano all'ASMEL e le nuove opportunità varate dal governo Draghi sono una procedura in linea con le esigenze concrete dei Comuni. Sono già 76 gli enti in tutta Italia che hanno provveduto all'interpello dei primi elenchi resi disponibili a partire da luglio scorso. Le assunzioni saranno perfezionate in cinque settimane dopo la fase di interpello. Obiettivo per gli enti pubblici è quello di completare la prima tranche di assunzioni entro il 31 dicembre. E adesso torniamo in città perché si è svolta questa mattina nella sala dell'ex caffetteria del Castello Estense e la conferenza stampa di presentazione di Ferrara Monumenti Aperti manifestazione culturale che coinvolge studentesse e studenti delle scuole ferraresi nell'accoglienza e nella visita di luoghi di rilevanza della città. L'appuntamento è in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre ma sentiamo quali sono i dettagli. Monumenti Aperti è una manifestazione culturale nata a Cagliari nel 1997 che si sviluppa in un originale percorso didattico rivolto a studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado con l'obiettivo di far loro scoprire, conoscere e divulgare a famiglie, cittadini e turisti il patrimonio artistico della città. Grazie alla forte vocazione didattica e narrativa che coinvolge i giovani in prima persona l'iniziativa assume i tratti di un'esperienza di educazione civica che è connotati di una grande festa popolare. Sabato 22 e domenica 23 ottobre si trà la sesta edizione ferrarese organizzata dall'associazione teatrale Ferrara Off con il coordinamento di Imago Mundi, promotrice della manifestazione a livello nazionale. Il tutto in collaborazione con il Comune di Ferrara sostenuto dalla Fondazione Ferrara Arte, dalla Regione Emilia-Romagna in quanto parte del progetto triennale offline e con il patrocinio della provincia di Ferrara. Nei due giorni della manifestazione le alunne e gli alunni delle scuole di Ferrara faranno le veci di giovani guide e accompagneranno i visitatori su 15 monumenti importanti della città. Il tema di questo sesto appuntamento cittadino riprende il leitmotiv della manifestazione nazionale Il nostro bello, insieme ci prendiamo cura del tempo. Un motto che unisce il racconto storico-artistico del patrimonio culturale, materiale e immateriale alla comunicazione del valore sociale, economico e multiculturale della comunità che esso rappresenta. Per rimanere in linea con il tema nazionale, Ferrara Off Teatro, che cura l'organizzazione ferrarese, ha individuato in corso Ercole I d'Este, definita una delle vie più belle del mondo, il viale centrale del percorso di monumenti aperti. Tutto questo dunque sabato e domenica, ma adesso parliamo di un'iniziativa completamente diversa per domani pomeriggio, perché dopo le manifestazioni di febbraio, marzo e luglio, la Rete per la Pace di Ferrara torna in piazza rispondendo alle mobilitazioni nazionali lanciate dalla coalizione di Europe for Peace. L'appuntamento dunque è per domani, venerdì 21 ottobre alle 17.30 in piazza municipale, dove decine di associazioni chiederanno percorsi concreti di pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo. Siamo e saremo sempre dalla parte della popolazione civile, recita un comunicato, delle vittime della guerra e dei pacifisti russi che si battono per porre fine all'aggressione militare. Questa guerra va fermata subito cercando una soluzione negoziale, ma non si vedono sinora iniziative politiche in questa direzione, né da parte degli stati, né da parte delle istituzioni internazionali e multilaterali. Occorre cambiare politica, imboccare una strada diversa, occorre il disarmo a partire da quello nucleare come risposta alla crisi globale. Per questo, a otto mesi dall'inizio della guerra, la Rete per la Pace di Ferrara aderisce alla giornata nazionale di mobilitazione per la pace e chiede a tutte le cittadine e i cittadini di partecipare per chiedere, tacciano le armi, negoziato subito. Cambiamo argomento, parliamo della valorizzazione del cibo, della cultura e delle tradizioni del territorio della pianura bolognese che saranno al centro della festa della Semina in programma domenica prossima, 23 ottobre, al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, museo che è immerso nella realtà che racconta. Ne abbiamo parlato con la responsabile del patrimonio del museo, Giulia Albertazzi. Sentiamo. Ci troviamo a San Marino di Bentivoglio, che è a 15 chilometri circa da Bologna. Questa è un'istituzione della città metropolitana di Bologna, l'istituzione Villa Smeraldi, ed è il Museo della Civiltà Contadina. Il museo nasce negli anni 60, quindi è uno dei musei più storici su questo tema, e nasce dalla comunità di contadini ed ex contadini che decidono di salvaguardare il patrimonio di riferimento della loro cultura, insomma. E quindi, in collaborazione anche con l'Università di Bologna, nasce un allestimento ricchissimo che copre praticamente tutte le culture che si facevano nel territorio, e grazie anche al Comune di Bentivoglio, il Comune di Castelmaggiore e il Comune di Bologna, e la provincia che poi oggi è la città metropolitana, diventa appunto un museo di eccellenza su questo tema. Un pulmone verde è aperto praticamente ai visitatori? Esatto, siamo in un parco storico di Villa Smeraldi, appunto un parco all'inglese, è aperto ai visitatori, abbiamo anche un pomario storico con tantissime varietà, ormai molte perse, e quindi facciamo anche conservazione su questo tema in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e l'Università di Bologna, e abbiamo una bellissima realtà, la locanda Smeraldi, gestita da una cooperativa sociale, la cooperativa Anima, che fa ristorazione e accoglienza. Qua ci sono, mentre si passeggia, si può imbattere tranquillamente in animali da fattorie? Esatto, sì, sì, è uno dei nostri progetti della cooperativa sociale Anima, è proprio quello di arricchire il parco con questi animali, insomma. E poi realizziamo anche numerosissimi eventi, quindi il parco diventa anche luogo per attività culturali, un esempio è quello di domenica prossima, il 23 ottobre, che avremo la festa della Semina, una festa storica, l'open day del gusto, festa della Semina con produttori del territorio, iniziative, laboratori, e quindi sul nostro sito del Museo della Civiltà Contadina trovate tutto il programma ricchissimo di iniziative ed eventi. Il museo è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine, dalle 9 alle 12.30, e anche il martedì e giovedì pomeriggio. La domenica è aperta solo il pomeriggio, quindi potete venire comunque, che c'è anche il parco che vi accoglie, è bellissimo, e invece facciamo numerosissime iniziative anche di tutta la giornata, come quella che dicevo prima, del 23 ottobre, quindi seguendoci sui social e sul sito, avrete tutte le informazioni e tutte le iniziative che organizziamo. Ci siamo in chiusura, prima di terminare però un'occhiata ai programmi della serata su Telestense, si parte alle 20 con Filo d'Arianna, nuova puntata dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione come arma contro il tumore al seno. Alle 21.30 invece torna Match del giovedì, tra le tematiche affrontate questa sera, innanzitutto si parlerà di dialetto ferrarese e della valorizzazione della cultura territoriale con un'associazione impegnata sul territorio, a seguire si farà un'analisi della stagione balneare 2022, conclusisi poche settimane fa con due operatori del settore, infine spazio al calcio, alla spalla in particolare, con un'analisi della recente partita di Coppa Italia contro il Genoa. Questo è altro ovviamente su Telestense, ma vi ricordo anche il nostro sito telestense.it, i nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Grazie dunque per averci seguito e come sempre a tutti l'auguro di una buona serata. Grazie. Grazie a tutti.